Bene amici, voi sapete che a me i Realme piacciono particolarmente, ritengo che abbiano un rapporto qualità-prezzo veramente super a fuoco, molto spesso alcuni li definisco dei Best Buy e ultimamente ho provato questo GT Neo 2 e quando l'ho provato sotto nei commenti tantissimi hanno chiesto, ma allora è meglio il Neo 2, il Master Edition o il GT? In realtà ha tirato d'orecchia a Realme perché ne fa uscire veramente tanti e con questo video cerco di raccontarvi le differenze tra questi GT. Prima di tutto il design, lo vedete voi molto diversi, ma il design si va a ripercuotere anche sul touch and feel. Questo che è il GT forse è il più equilibrato, 186 grammi, 8,4 mm di spessore, tutti hanno il sensore di impronta sotto al display per andare a sbloccarli, tutti molto affidabili da quel punto di vista, mettono l'unità al massimo su tutti e questo il Master Edition è forse il più comodo da tenere in mano perché è anche il più leggero, poi vedremo come ha la batteria più piccola, ma vabbè non vi anticipo niente, spessore 8,7 mm, 180 grammi di peso, mentre il Neo 2, anche lui ovviamente con i sensori sotto al display è anche lui molto affidabile, è il più pesantuccio ed è l'unico, o meglio anche gli altri ci sono con delle back cover diverse in vetro, in plastica eccetera eccetera, ma lui c'è solo così, non ha la back cover in pelle e questo fa sì che sia il più scivoloso, ma anche perché è il più pesante, il più spesso, 9 mm, anche 200 grammi si tengono in mano con più difficoltà ed è anche quello che ha il display però più grande, insomma diventa una discreta padella. lui il Master Edition è il più piacevole, lui è il più equilibrato, lui è quello che dondola anche un po' perché ha la fotocamera che sporge più degli altri, poi vedremo se questo è sinonimo di qualità o meno, ma andiamo di display su tutti, vado di YouTube, su tutti cerco il classico video 4K HDR, vi ricordo che tutti e quattro hanno la luminosità al massimo, ok andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, anzi c'è una cosa, uno alla volta, se no impazziamo, allora 120 Hz, ovviamente full HD+, foro nel display ma al foro ce l'hanno tutti, e 401 ppi, super AMOLED 100 nits di luminosità massima e la qualità del display è molto buona, è un display che mi è piaciuto particolarmente, il display del Master Edition è assolutamente identico, perché adesso vi faccio partire qua lo stesso video e uguale, ragazzi c'è poco altro da dire, 1000 nits anche lui, 120 Hz anche lui, 6,43 pollici anche lui e ovviamente anche lui è un buon display, e anzi molto buono, ma quando ho provato il GT Neo 2 mi sono reso conto che aveva un quid in più, non tanto per l'angolo di visuale, sono ottimi in tutti e tre, non tanto per i neri perché sono assolutamente tutti e tre uguali da quel punto di vista avendo la stessa tecnologia, un po' meno definito, 398 ppi rispetto ai 409 degli altri, ma è una differenza che l'occhio veramente fa fatica a percepire, cosa percepisce l'occhio? La differenza di luminosità massima, qua abbiamo 1300 nits, il display qua ha una tecnologia E3 che è leggermente diversa e anche i colori sono leggermente meglio, e anche lui, cioè il Neo 2 ha il display a 120 Hz, quindi sul display vince leggermente, non è che i due fanno schifo e lui è bellissimo, ma quando li si mette uno di fianco all'altro, oppure sotto la luce diretta, il Neo 2 ha un display che è leggermente migliore. Per quanto riguarda l'autonomia abbiamo 4500 mAh qua, si carica 65 Watt, questo non lo ripeto più perché tutti e tre si caricano a 65 Watt, quindi molto veloci, tutti e tre non hanno la ricarica wireless, ma 4500 mAh con lo Snapdragon 888 a sera 10%, il Master Edition 4300 mAh, ecco anche perché è un pochino più leggero e maneggevole, ma un processore meno potente, lo Snapdragon 778 5G, sono ovviamente tutti i 5G, risparmio un po', 15-20% a sera e poi il Neo 2 ha il processore, quello che è un po' più energivoro, l'870 fa un po' Dr. Jack il Mr. Hyde, anche l'88 fa un po' Dr. Jack il Mr. Hyde, ma questo di una situazione precedente con un processo produttivo leggermente diverso lo fa un po' di più, quindi 5000 mAh, più grosso, più pesante, ma a sera arriva con comunque il 10%, anche perché ha il display un pochino più grandicello, ma software e usabilità, ve li giro e li risblocco, ma qua taglio, sennò diventa un video da 62 ore. Inutile dirvi che sono identici, anche se vado nelle impostazioni, abbiamo su tutti la Realme UI versione 2.0, Android 11, tante opzioni, tante possibilità di gestione, l'unica cosa che non mi piace, ma questa in generale l'interfaccia di tutti i Realme, ma in generale dei telefoni di provenienza cinese, è che quando vado a cliccare sulla notifica, se abbiamo più messaggi della stessa applicazione, non mi va all'applicazione, ma mi va a espandere i messaggi, pippa mia. Per il resto veramente tante opzioni, ma la velocità, perché lì un po' cascalasino, c'è un po' di differenza, tutti hanno UFS 3.1, avete visto il Realme, l'ho fatto partire primo, secondo, terzo, ma guardate, sul GT arriverà prima e anche di qualche secondino. Eccolo qua, è arrivato, poi è arrivato lo Snapdragon 870 e poi arriva 778. Praticamente vanno esattamente in parallelo con la potenza dei processori che montano. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'uso stress, quindi l'uso stress è meglio il GT, poi comunque va bene anche il Master Edition, non è che laghi o che abbia problemi. Secondo però arriva il Neo 2. Tra Neo 2 e GT le differenze sono veramente piccole, piccole, piccole. C'è da dire che forse il processore di ultima generazione verrà magari supportato un po' di più nel tempo, ma davvero differenze infinitesimali. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano, quindi classico, social, con Instagram, la possibilità di fare le storie, devo dire che va uguale in tutti questi tre telefoni, offerte.club, dove probabilmente trovate anche l'offerta di Black Friday di questi Realme, ma vedete, cioè, veramente uso quotidiano difficile rendersi conto di differenze. Andiamo anche su Facebook, maledetto si è sloggato, odio Facebook. Vabbè, vaffanbagno a Facebook, lo avete capito, sostanzialmente uguali. E vi faccio vedere anche, perché i modem che hanno dentro sono tutti 5G, da un punto di vista dati, comunque il GT e il Neo 2 sono leggermente più veloci rispetto a 778, ma vi faccio vedere anche a livello di Wi-Fi. Facciamo un bello speed test. Con il GT siamo intorno ai 450 Mbps, più o meno. 450, 460 anche con il Master Edition. Bomba per quanto riguarda il Neo 2, perché sfrutta meglio probabilmente il Wi-Fi 6 del mio router nuovo. Ovvio che poi alla fine sono differenze che nel quotidiano si fa fatica a razionalizzare e a percepire, ma andiamo sulle fotografie. Partiamo da quella con poca luce, le state vedendo anche in sovraimpressione. Ragazzi, difficile capire quale faccia le foto migliori. Per quanto riguarda però la cam anteriore, qua ci sono delle differenze, perché non vi ho detto che tutti questi tre telefoni dietro hanno la cam principale da 64 Mpx, la grandangolare 119 gradi da 8 Mpx e la macro da 2. Tutti uguali. Cambia leggermente il sensore del Neo, ma i megapixel sono sostanzialmente quelli, anche se lo dico sempre, i megapixel non fanno la qualità, ma la qualità qua è molto simile a cam posteriore. Cam anteriori 16 Mpx per GT e Neo 2, mentre il Master Edition ha una 32 Mpx. In teoria dovrebbe fare foto migliori, in pratica con poca luce le cam davanti fanno tutte abbastanza male le fotografie. Per quanto riguarda le macro, anche qua differenze veramente quasi zero. Questa è la grandangolare con luce normale, questa è la normale con luce normale, questa è la zoom con luce normale e questo è l'effetto bokeh qua in cantinetta. Inutile girarci intorno. Non sono dei top camera phone, fanno delle buone foto, per l'utilizzo quotidiano vanno bene, ma dal punto di vista fotografico li metto alla pari, anche per quanto riguarda i video. Mentre per quanto riguarda la riproduzione musicale, qua ci sono delle belle differenze. Allora vado subito di Gigi Dug, qua siamo con stereo, ma soprattutto jack per le cuffie. Mentre qua sul Master Edition c'è il jack per le cuffie, sempre sotto, ma è mono, l'audio esce solamente qua sotto. Se andiamo sul Neo 2, torna lo stereo, ma ahimè, no, no raga, il jack per le cuffie qua non lo hanno messo. Mannaggia a loro. Quindi da questo punto di vista vince il GT, per l'hardware vince il GT, per l'autonomia vince il Master Edition, per il display vince il Neo 2, per il Touch & Fill sono lì tra il GT e il Master Edition, che forse a me piace di più per questa back cover stile valigia e che mi piace veramente tanto. E allora veniamo alle conclusioni. Mi sono segnati i prezzi, 399,828,499,12,256, c'è un coupon dedicato a chi mi segue, che sconta ulteriori 14€ per il GT, sono prezzi Black Friday, quindi sono prezzi già scontati, 289,628,349,8256, mentre il Neo 2,369,828,449,12,256. Mi siete persi nei numeri? Non preoccupatevi, vi dico che io personalmente comprerei il GT, è quello più potente, ma non è troppo grosso, è bello equilibrato, la batteria comunque dura fino a sera, la ricarica è rapida, insomma coniuga design, prestazioni e anche un prezzo molto molto interessante. Vi ricordo che lo Snapdragon 888 è il top processore di Qualcomm, mentre il Master Edition è il Best Buy per quanto riguarda qualità-prezzo, perché voglio dire, 289,628 è il telefono che con questo processore, con questo latte di batteria, con queste prestazioni, con questo software, con questo display, ha il veramente miglior rapporto qualità-prezzo, ma perde un po' di velocità, perde il discorso dello stereo, però è molto bello, insomma anche lui è interessante, se volete rinunciare a qualcosina, mentre forse il Neo 2 è quello che mi ha convinto meno, pur rimanendo in un ambito di ottimi telefoni, cioè sono tutti e tre ottimi telefoni, se vi piace il verde prendetelo, perché secondo me il design è molto bello, lui è quello che forse per quanto riguarda il peso, sarà l'ergonomia, io sono molto attento anche all'usabilità, è forse quello un pochino più pesante, ma avete visto comunque è molto prestante, e ha sicuramente il display che è il più bello tra i tre, anche se è un po' più bello, non è che sia gli altri due schifo, è questo bellissimo, ma spero con questo video di avervi chiarito le idee, e di riuscire a farvi fare la scelta giusta tra questi tre, che comunque sono tre ottimi telefoni, veramente complimenti a Realme per come sta lavorando, anche sul rapporto qualità-prezzo, ciao!